Ciao a tutti, sono Barbizionez e oggi vi parlerò di Elysium. Sono una canna della fantascienza da quando ero piccola, io adoro la fantascienza perché secondo me riesce a parlare delle differenze sociali, dei pregiudizi, del razzismo e quanto in realtà siano delle scemenze essere razzista, discriminatori. Proprio per questo io amo tantissimo i film di Neil Bonkamp, perché secondo me è tra i registi migliori di fantascienza al momento in circolazione. Avevo visto da pochissimo il suo Elysium e subito dopo ho visto Prometeo di Ridley Scott e secondo me sono esattamente cosa bisogna essere la fantascienza e cosa non dovrebbe essere. E sto parlando di Ridley Scott, non certo l'ultimo scemo che ha preso una macchina da presa in mano e ha iniziato a girare un film di fantascienza. Eppure secondo me la differenza è proprio il simbolico, secondo me Elysium è un film simbolico con un significato sociale, tutte cose che all'interno di Prometeus non ci sono. Se volete ve ne parlerò meglio, però secondo me Prometeus è un film privo di simbologia e quindi è molto meno potente nonostante la storia, la mitologia, eccetera eccetera. Tra poco uscirà il nuovo film a un androide, io non vedo l'ora assolutamente di vederlo, anche se preferivo il titolo originale. Cioppi! Però vi consiglio assolutamente di vedere il film in assoluto più famoso di Neil Blomkapp e decisamente uno dei più belli, che è District 9. Vi consiglio assolutamente di vederlo, però secondo me è un pochino più comprensibile se voi conosciate un pochino la storia del Sudafrica. Già dal titolo District 9 sarebbe District 6 in Africans, che era un quartiere nero di Cape Town, da cui furono deportate tantissime famiglie dall'oggi al domani, un po' come noi vediamo durante il film con gli alieni. Queste persone sono state deportate dalle loro case e dal governo bianco durante l'apartheid, proprio perché il governo bianco voleva appropriarsi di quella zona della città che era vicina al centro e al porto. Secondo me District 9 è assolutamente più bello di Elysium, però secondo me noi italiani dobbiamo assolutamente vedere Elysium. Per chi ci riguarda da vicino, noi siamo molto abituati a sentire parlare di migranti, di sbarchi. Io sono sicura che Neil Blomkapp non conosce il partito della Lega, però sinceramente da come parla il personaggio di Jodie Foster a me sembra un buon anno qualsiasi, un Salvini, un Bossi. Perché davvero certi dialoghi sembravano veramente presi da loro e messi in quel personaggio. Se non l'avete visto vi parlo del film, il film è ambientato nel 2154, che è allo stesso anno di Avatar, però sinceramente a me Avatar non è piaciuto per niente. L'ho trovato banale, molto anni 90, uno di quei film che se non lo guardi al cinema non vale assolutamente nulla. Ma torniamo al film, siamo nel 2154. E in questo periodo la divergenza, la lontananza tra ricchi e poveri è diventata ormai abissale. I ricchi vivono in una navicella orbitante intorno alla Terra. Questa navicella riproduce l'ambiente terrestre, hanno ricchezza, tutte le tecnologie più avanzate, ma soprattutto hanno delle macchine che possono curare qualsiasi malattia e sono a disposizione di tutti loro. Quisto su una navicella, purtroppo sulla Terra invece sono rimasti solamente i più poveri, quindi è sovrappopolata, c'è un caos, c'è povertà, malnutrizione e tantissime malattie sono diventate incurabili. Sulla Terra ci sono tantissime persone disperate che tentano, nonostante la grandissima povertà, di mettere da parte i soldi per prendersi un biglietto ed imbarcarsi su una navicella a barcone per tentare di sbarcare su Elysium. Molti di loro lo fanno per tentare di curare le loro malattie, che lì sarebbero curabili, invece sulla Terra no. Ma soprattutto per avere la possibilità di una salvezza. Purtroppo questa cosa è molto pericolosa, perché se queste navicelle a barcone vengono intercettate da Elysium, vengono bombardate, proprio per non minare la ricchezza dell'elite. Io vi direi, vi ricordo qualcosa di qualche politico, magari qualcuno che diceva di sparare sui barcone, perché a me sembra una cosa molto simile. La cosa che apprezzo della fantascienza è proprio questo, distanziarci da qualcosa di quotidiano e vedere l'essenza delle cose così come sono, ovvero in questo caso, beccere. Ma continuiamo a parlare del film, il protagonista di questo film è Matt Damon, a me piace molto come attore. Ma a quanto pare il regista aveva in mente un'altra persona per questo ruolo, prima di chiamare lui. E una tra queste è proprio Ninja, il cantante di The Antwerp, che è nel cast di Ciappi, che io non vedo assolutamente l'ora di vedere. Lui è un grandissimo fan di District 9, del regista, ha un D9 tatuato all'interno del labbro, il regista compare in una foto del videoclip di Babys on Fire. Ninja inoltre ha fatto diverse foto promozionali con il braccio alieno di District 9. Yolandi ha come soprannome su Instagram, Pro, che sarebbe crostaci come erano soprannominati in senso dispregiativo gli alieni di District 9. Molti dicono che questa sia una cazzata, però in realtà non sembra così. Ci sono diverse cose che collegano il personaggio di Max proprio a Ninja. Max dice di arrivare dall'Africa, inoltre poco prima di essere operato gli dicono Quando avremo finito con te diventerai un ninja delle favelas. Ma le cose non finiscono qui. Il personaggio, come vi ho detto, si chiama Max. I The Antwerp sono un progetto di Yolandi, Harry Dutois e Watkins Tudor Jones. Il progetto loro precedente si chiamava proprio Max Normal TV. E colui che adesso è noto come ninja, prima si faceva chiamare proprio Max Normal. Inoltre, se avete detto in una scena proprio veloce, 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 Il personaggio di Max ha sulla schiena, tatuata S.O.S., lo stesso tatuaggio che ha ninja. E in una scena del film si sente anche una loro canzone, anche se non è accreditata. Però io ce l'ho orecchio, eh. Quanto pare Neil Blomkamp aveva offerto questo ruolo a ninja. Ninja ha detto che non era del tutto sicuro e quindi ha declinato. Dopo di lui è passato a Eminem. Sicuramente se avesse accettato Eminem questo ruolo, io sarei rimasta con gli occhi a cuoricino durante tutto il film. Quindi questa è stata quella che è andata la mattina alle 10 a vedere la prima di 8 Mile. Il primo giorno che uscisse. Vi dico solamente questo. Insomma, contatta Eminem. Eminem dice che avrebbe accettato la parte solo se avessero spostato il set delle riprese a Detroit. Che è la sua città natale e all'epoca, così come adesso, vive una forte crisi economica e una forte povertà. Hanno chiuso la Crisler dove quasi tutti lavoravano e quindi per un certo periodo era diventata quasi una città fantasma. Però adesso si sta un pochino riprendendo. La produzione però non ha accettato questa offerta e quindi hanno declinato e sono passate alla terza scelta, che era Matt Damon. Matt Damon si è impegnato tantissimo, addirittura ha lavorato 4 ore al giorno in allenamenti per avere il fisico giusto che voleva il regista. Come vi ho detto il film è ambientato nel futuro e quindi siamo in una Los Angeles futuristica in cui tutti parlano spagnolo perché ovviamente sono rimasti i più poveri e quindi i portoricani. La fantasia fa sempre una certa radice di verità e negli Stati Uniti ci sono diversi problemi di razzismo e quindi in base alla tua etnia di provenienza ti vengono precluse molte cose purtroppo. Nel film vediamo delle case che sembrano le slum di Cape Town, delle case fatte in lamiera con al massimo una o due stanze dove vive un'intera famiglia senza luce elettrica, senza bagno. Vivono lì intere famiglie sperando di andare in una casa popolare. Secondo me la scena più importante di questo film che ricarica e incarna assolutamente tutto il significato del film e deve essere importantissima per noi soprattutto che siamo italiani è proprio quella iniziale in cui si vede un barcone di sperati, una navicella piena di persone malate che tentano di raggiungere l'isium sperando di curarsi ma viene abbattuta dal personaggio di Judy Foster proprio per non minare quella ricchezza che hanno in pochi per non condividere nulla, per non perdere nulla uccidono altre persone. Il personaggio di Judy Foster inoltre per fare questa cosa si fa aiutare da un personaggio sotto cobertura sulla terra, Kruger. Questo bombarda dalla terra la navicella e compare una sigla che è CCB che sarebbe Civil Cooperation Bureau. E questo gruppo è esistito veramente durante l'apartheid, questo gruppo era sostenuto dal governo e gli permettevano di uccidere liberamente tantissime persone, tantissime persone sono state uccise così, senza motivo da questo gruppo armato conosciuto anche come la squadra della morte. C'erano capi in varie regioni del Sudafrica, uno di questi si chiamava Chappi. Devo ancora vedere il film e quindi non vi posso dire se in realtà il nome sia stato ispirato da questo oppure dalle Chappis, ovvero delle gomme sudafricane che hanno per mascotte un castore e sono molto famose lì. Ma non finisce qui, il personaggio di Kruger è ispirato a un vero gruppo, il 32esimo battaglione. Era un esercito di persone spietate composto da bianchi e neri che è stato soprannominato in diversi modi, The Terrible Ones oppure The Buffalo Battalion. Un altro riferimento, non so se l'avete notato però, sull'aereo di Kruger si vede una bandiera del Sudafrica in quanto sia l'attore che l'orbre, la Shapiro e sia il regista sono entrambi sudafricani. Passiamo a qualche chicca, durante il film c'è un'auto che guida Matt Damon e Diego Luna che è una GTR modificata, una Nissan GTR. In realtà quella è appartenuta al regista. Come vi ho detto il film è ambientato a Los Angeles, ma nonostante tutto ci sono tantissime parole nella versione originale del film, se lo vedete, che provengono dall'Africans che è una lingua dei boeri del Sudafrica, ci sono tantissime parole in slang. Per esempio c'è B che deriva da Butty, che è un modo formale per dire fratello, amico, bra che sarebbe la versione sudafricana di Brothers o Dude. Un'altra parola che viene usata tantissimo nel film è Lecker. La traduzione sarebbe bello, molto bello, sarebbe la traduzione dell'inglese Nice. In genere si usa come Lecker Shit, tipo bella merda. Un'altra parola molto usata è Boki. Nello slang african si usa molto per dire un ragazzino bianco che è figlio di papà oppure un po' palestrato e lampadato, il bello della scuola. Se non avete visto questo film io vi consiglio assolutamente di vederlo. Apprezzo tantissimo come Blomkamp usi la fantascienza come metafora e critica sociale. Credo che questo film dovreste farlo vedere a tutte quelle persone che dicono affondiamo i barconi, non c'è posto per noi, che vengono a fare in Italia, spessero a casa loro. Ecco, questo film dovrebbe fargli capire che no, non si può pensare così. Quindi il mio voto per questo film è Rulo di Tamburi 9. Grazie mille per aver visto questo film, fatemi sapere che cosa ne pensate, quali secondo voi sono i film di fantascienza più belli, più significativi che avete visto di recente. Qui sotto troverete tutti i link ai miei social. Grazie mille se mi siete iscritti al mio canale, grazie mille per continuare a me a seguire. Ciao!